Il Salto è uno dei picchi di maggiore diffusione del Manifesto. Ci sono le cronache locali, c'è una sezione italica, si struttura in un modo più ampio, meno foglio di riflessione, più giornale. Si stenta a capire l'anomalia del giornale che è proprio in questa sua così strana composizione. Per cui ci sono generazioni di comunisti e generazioni di persone che non sono state comuniste ma che sono anticapitaliste. E non tutti quelli che sono anticapitalisti sono comunisti, mentre io penso che tutti quelli che sono comunisti sono anticapitalisti. Però c'è proprio un fatto, in questo generazionale, proprio di esperienze di vita, di politica, di movimento diverse. E quindi finché c'è questo nel Manifesto si respira anche un'aria molto frizzante, molto interessante, perché appunto c'è un movimentismo che si confronta con invece una logica più tradizionale di cultura politica. Anche se il Manifesto poi appunto è un gruppo eretico che contesta la cultura politica del partito di provenienza, del partito comunista, e quindi c'è sempre poi un momento di incontro e di sintesi quando si riesce a discutere. Il Manifesto per me è stato anche molto importante perché non era solo un lavoro, era soprattutto un interesse anche politico e giornalistico di stare in un luogo dove succedevano delle cose, dove si diceva delle cose, dove si cercava di relazionarsi col mondo, con gli avvenimenti politici, storici. Quando sono arrivata qua, appunto era all'inizio, mi ricordo della guerra dell'ex Jugoslavia, è stato, devo dire, uno shock. Il modo di fare grafica, il Manifesto, non è cambiato, ma è cambiato la tecnologia. Per cui, prima, era più artigianale, diciamo. Disegnavamo su carta, c'erano vari passaggi, sceglievamo le foto in modo diverso, forse molto più interessante che adesso, perché venivano i fotografi, ci raccontavano le foto che ci portavano. Quelle foto avevano un significato diverso. Oggi noi abbiamo la Reuters, l'Associate Press, e ci arrivano sugli schermi in una maniera, un po' come la televisione, le subiamo. Non le scegliamo, ma in qualche modo le subiamo. Non c'è una storia dietro del fotografo, di chi l'ha fatta quella foto. E questo è l'aspetto giornalistico anche interessante di questo lavoro. E poi, la creazione di una pagina significa parlare con il giornalista che viene per disegnare appunto una pagina, sapere che cosa mettiamo in pagina e molto importante. Che senso vuole dare il giornalista a quella pagina? E questo fa sì che è un lavoro meraviglioso. È la storia della grafica, soprattutto dei quotidiani in Italia. E il manifesto rappresenta questa storia. perché i più grandi direttori artistici hanno lavorato per il manifesto. E spesso e quasi sempre gratis, perché la nostra specificità è lavorare gratis per noi. E anche noi lavoriamo gratis per noi, in effetti, molto spesso. Il G8 di Genova per tutti noi è stata non solo un'esperienza giornalistica, ma un'esperienza vissuta sulla pelle. Sulla pelle perché come giornale decidemmo, mentre lavoravamo, mentre scoprivamo che era morto un giovane ragazzo, decidemmo di andare a Genova. Di andare a Genova con un pullman nella notte, di andare alla manifestazione dopo la morte di Carlo Giuliani e di lavorare di domenica per fare un giornale speciale. Chiedemmo nelle nostre pagine ai nostri lettori e anche a chi non ci leggeva o ci comprava in quei giorni perché era successa una cosa così grave, di darci le proprie foto, di portarcele in redazione, di portare anche i rullini, li avevamo stampati noi. Una mattina si presentò in riunione di redazione una giovanissima. Era stata dentro la scuola Diaz la mattina presto, dopo aver passato la notte in sonne davanti ai portoni chiusi. era entrata dentro la Diaz subito dopo, quando si poteva entrare e camminando in quei corridoi trovò su un mobile un sacchetto, un sacchetto di rullini, di rullini mai sviluppati. Non sapeva che fare e nell'incertezza decise di portarlo via e leggendo il nostro appello sul quotidiano ce lo portò e noi andammo a svilupparlo. Si capì da quelle foto che sviluppammo, erano otto, dieci rullini, centinaia di foto, era un sacchetto di ragazzi che stavano girando in giro per l'Europa, due giovani. Noi sviluppammo quelle foto per capire che fine avevano fatto visto che erano stati dentro quella maledetta scuola. Scoprimmo stampandole di forze che essendo stati passati anche a Roma qualcuno li poteva conoscere e in effetti dei ragazzi dei centri sociali li riconobbero e potemmo poi sapere attraverso i contatti che avevano preso al centro sociale di Roma che chi erano questi due ragazzi e soprattutto che erano stati dentro la Diaz che erano finiti a Bolzaneto non poterono raccontarci la loro storia non avrebbero potuto non avevano voglia avevano voglia di fuggire dall'Italia. Vi chiamate ancora un quotidiano comunista Ma sì perché secondo me si potrebbe anche togliere la testatina quotidiana comunista per un motivo molto semplice quando viene messa questo sottotitolo perché si voleva dimostrare che si poteva essere comunisti anche fuori dal Partito Comunista e questa scommessa viene vinta si può essere comunisti anche fuori dal Partito Comunista ma quando nell'89 il Partito Comunista non c'è più finisce Serpeggio nel giornale molte volte Luigi Pintoro lo accenna che appunto questa testatina si poteva anche togliere perché non era più una non era più nella origine nella ragione di origine del giornale poi è rimasta perché era come un marchio quindi il marchio non si no non si toglie non si tocca però non ha più il valore che aveva all'inizio quando proprio nasce il giornale polemicamente questa testatina viene messa perché c'è un partito comunista quando io ho detto dovremmo togliere la testatina comunista dal giornale non perché diventiamo più di destra ma perché questa testatina comunista ci permette di avere il massimo di vaghezza politica possibile so cosa vuol dire essere anticapitalista questo lo so cosa vuol dire ma dire cosa vuol dire essere comunista proprio non lo so non lo so cosa vuol dire cosa vuol dire la proprietà comune dei mezzi di produzione vuol dire proprietà statale ma allora che cosa vuol dire il modello jugoslavo cioè non abbiamo la minima idea di che cosa d'altra parte non è sempre necessario avere la ricetta pronta per essere un giornale siamo in una tale fase di sconfitta politica che a questo punto il primo il primo compito di un qualunque organo di informazione è di ricreare e di rialfabetizzare degli degli analfabeti l'analfabetismo generale manteniamo noi questo questo brand perché è sempre più una parolaccia essere comunisti in questo e allora non fosse altro per ricordare che questa parolaccia si può ancora dire tanto più nel senso in cui lo ha detto il manifesto quando è nato cioè un comunismo diverso e non allineato con i blocchi per cui tanto più in quel senso tanto più per portare avanti per continuare la ricerca verso quella quel mondo in cui i diritti siano di tutti l'eguaglianza e la differenza siano per tutti quindi io penso che sia un percorso e dismettere quella dicitura mi sembrerebbe anche togliere dall'orizzonte questa ricerca so che è difficile oggi dirsi comunisti sembra più una cosa snob e vintage e forse lo è anche perché poi il manifesto è anche un po' snob e vintage nella sua grafica lo è senz'altro nel suo modo di scrivere lo è senz'altro però quella è una ricerca questa ricerca verso un mondo migliore verso un mondo nuovo è